Non lo so, si sono pronto, poi cosa vuoi sapere? Se vinco chi lo sa? Ci sono anche gli altri, ci sono altre nuove. Ma sei teso? Noi vogliamo sapere, sei teso? Ti sembro teso? Assolutamente no. Sto andando a fare una passeggiata, una passeggiata di salute, ma le che vada mi parellano a me. Andre, comunque, in bocca al lupo da parte di tutti, adesso questo lo mettiamo su Facebook subito secco e raccomando, facciamo vedere dove si sterrà il contesto, no perché non riusciamo ad arrivarci con la videocamera. Andre, in bocca al lupo, tutta l'Italia spinge, anzi come dicono i francesi, merda. Merda, vai Andre, bravo.